Ciao a tutti, spero stiate bene, spero anche che abbiate passato delle buone feste, possibilmente in serenità. Il video di oggi, come leggete dal titolo, sarà un video Q&A e in realtà doveva uscire ieri, cioè domenica, ma ho compiuto gli anni l'altro giorno e sono stata un po' in un mood riflessivo, sbarra crisi esistenziale e quindi ho pensato che non fosse l'ideale e filmare un video e così ho deciso di aspettare e oggi che è lunedì sono un po' più positiva e quindi filmo. Tra l'altro di solito non filmo mai, il giorno stesso in cui pubblico è un po' rischioso, ma spero venga bene e sarà un video super improvvisato e spontaneo. Comunque, alcune domande sono le stesse che, alcune solo, sono le stesse che mi avevate fatto nel primo Q&A, però le ho incluse perché magari chi mi segue da poco non ha avuto occasione di vedere quel video e nulla. Come sentite sarà tutto in whispering e spero sia rilassante e non troppo noioso. Allora, come nell'altro video, leggerò le domande dal mio quaderno, così ci sarà anche un po' di tapping e page flipping. è stupendo questo suono. Ok, iniziamo. Ah, tra l'altro la luce in questo video è un po' più bassa perché mi hanno regalato queste luci colorate e se sparo le luci quelle grosse, queste qua dietro non si vedono, quindi sto cercando di trovare il giusto equilibrio per farle risaltare, quindi spero si vedano. Ok, adesso iniziamo davvero. Allora, una domanda che mi è stata posta più volte, quasi in ogni video, iniziamo davvero. Hai Instagram? Qual è il tuo Instagram? Come ti chiami su Instagram? Do you have Instagram? Allora, la risposta è no. Avevo un Instagram un po' di anni fa ma l'ho cancellato e nel primo video Q&A spiego un po' brevemente perché non ho i social ma in sostanza non fa per me e trovo che mi crei più pensieri negativi che positivi e dunque questo è il motivo semplice per cui non ho Instagram o altri social. Poi, altra domanda, di dove sei? Allora, io sono di Torino e non sono sempre stata di Torino, infatti ho vissuto in vari posti ma poi magari perché c'è un'altra domanda che si collega ai posti, in cui ho vissuto, quindi poi lo riprenderò al discorso. Poi, ciao Elena, ciao. Ti piace studiare filosofia? Allora, io adoro la filosofia. Ho fatto il primo anno di università alla facoltà di filosofia ma poi mi sono disiscritta e ho passato a un'altra facoltà. Però la filosofia è una delle mie più grandi passioni e la coltivo comunque nel mio tempo libero, leggendo libri, ascoltando dei podcast e cose così. Comunque se a qualcuno interessasse un video in tema filosofico potrebbe essere interessante. Poi, un paio di persone mi hanno chiesto lo fai un video in piemontese o comunque in dialetto? Allora, mi piacerebbe perché è un'idea originale, però purtroppo io non sono brava assolutamente a parlare in piemontese, intanto perché non sono cresciuta qua. E poi, trovo sia abbastanza difficile come dialetto. L'unica frase completa che so dire è che significa due peperoni sotto olio. Però magari, chissà, col passare degli anni potrei imparare il piemontese. Next question. Mi vuoi sposare? Questo l'ho inclusa perché mi è stata posta più volte e la mia risposta è perché non credo nel matrimonio, quindi mi dispiace. Poi, 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 altre domande generali. Quanti anni hai e in cosa sei laureata? Allora, io ho 25 anni appena compiuti e sono laureata in biologia. Altra domanda. Allora, qual è il tuo percorso di studi? Dunque, come ho detto, ho fatto un anno di filosofia e poi sono passata a biologia, la triennale. E ho venito a biologia. Mi sono iscritta questo settembre alla magistrale in nutrizione umana. E quindi ho ancora questi due anni e poi stop. Poi, musica preferita. Allora, io potrei passare le ore a parlare di musica, ma in linea generale a me piace, mi piacciono quasi tutti i generi di musica. Se devo proprio scegliere dei generi preferiti, direi il jazz, il blues, il rock e tutte le varie sfumature. Il rap e in generale i cantautori, musica folk e l'hip hop mi sta piacendo molto in questi ultimi anni. Poi, fai qualcosa per rilassarti prima di fare i video? Dunque, sì. In generale faccio degli esercizi di respirazione, quindi chiudo gli occhi, inspiro, espiro dal diaframma. A volte bevo anche una tisana. Sembrerà strano, ma mangio qualcosa perché così ho la pancia piena e mi sento tranquilla. Altra cosa, mi faccio i grattini sul braccio. Allora, vi assicuro che almeno per me funziona. Proprio così. Chiudo gli occhi e lentamente scorro le unghie sul braccio. E' stupendo. Già mi sto rilassando. E quindi sì, faccio queste cose qua. Poi, poi, poi... Le ho tutte un po' sparse queste domande. Dunque, quali città italiane hai visitato che ti hanno colpito o ti piacerebbe visitare perché ne hai sentito parlare? Allora, qui mi sono dovuta segnare un po' le cose perché a mente non mi ricordo tutto. Allora, come città o località che mi hanno colpito? Ho segnato, diciamo, per regione. Allora, in Liguria ho visitato diverse città, ma il mio posto preferito è Portofino e anche Camogli. In Veneto, dato che ho una parte di famiglia che abita lì, ci vado praticamente ogni estate. E, vabbè, la città che ho nel cuore è Venezia. Ho anche vissuto lì un anno con la mia famiglia. E non riesco a descriverla a parole. È una città così originale, così unica. E ogni volta, anche se vado lì da tantissimi anni, ogni volta che ci vado c'è sempre qualcosa da scoprire. E poi i veneziani mi stanno simpaticissimi. Poi in Friuli, dove sono nata, mi piace tantissimo Trieste. La trovo una città bellissima e molto elegante anche. Poi Lazio ho visitato solo Roma. E, vabbè, Roma è Roma. Stupenda! L'anno scorso sono stata a fare un viaggio lì. E ho visitato un sacco di musei e quartieri. E poi il cibo è fantastico. Vabbè, comunque, credo che chiunque sia stato a Roma non può non amarla. In Emilia Romagna sono stata a fare una cita scolastica a Ravenna. Stupenda Ravenna. Siamo andati in bici e... Non mi ricordo tantissimo, però i mosaici sono spettacolari. Poi... Le marche... Mi ricordo poco, però... Recanati è stupenda. Proprio il paesaggio e tutto quanto mi è rimasto molto impresso. Ho visitato abbastanza dell'Italia, devo dire, però... Non quanto vorrei. Poi, un viaggio che mi rimarrà sempre nel cuore è quando sono stata in Puglia. Un po' di anni fa. E... Mamma mia. Indescrivibile. Cioè, di una bellezza proprio... Incredibile. I posti che mi sono rimasti sono stati... Ostuni. Bellissima. Cioè, non ho mai visto... Una cosa del genere. Veramente... Bellissima. So che mi sto ripetendo, però... Non mi vengono in mente altre parole. E... Vieste. Alberobello. I trolli che belli. Super... Super carini. Le isole Tremiti. Siamo stati... Tre giorni. E... Avevo però mal di pancia, quindi... Non me l'ho son goduta troppo, però... Vabbè. Un'acqua... Incredibile. Cristallina. Poi... Una bellezza naturale... Veramente... Veramente impressionante. E Castel del Monte, poi... Una cosa unica al mondo, proprio. Poi... Ehm... 3-4 anni fa sono state in Sicilia. E... Piaciuta tantissimo. Ehm... Palermo. La Valle dei Templi. E anche le Isole Olie. Le Isole Olie sono una cosa anche lì... Incredibile. C'era... C'era... Non mi ricordo su quale delle isole, però... C'era una spiaggia con la sabbia nera, vulcanica. Incredibile. Ehm... Sono stata ad ottobre, ma... Sì... Abbiamo fatto il bagno e tutto... E' stato stupendo. Poi... Ehm... Sono stata a Firenze. Ehm... Ehm... Ovviamente Firenze è stupenda. Ho così tante cose da vedere. Ehm... I due lati del... Del fiume. Ehm... Forse è una delle città proprio che mi è piaciuta di più. Ehm... Popolonia. Una cosa unica. Ehm... Mi è rimasta veramente impressa Popolonia. Ehm... Poi sono stata anche sull'Isola d'Elba che... Vabbè... Ehm... Si sa che è bellissima. Ehm... Vediamo... Sì... Credo di aver finito. Ehm... Mentre le città o località che mi piacerebbe visitare sono... Napoli. C'era in generale molto del sud Italia. Mi piacerebbe vedere di più. Comunque Napoli, Amalfi. Ehm... Siracusa. Ehm... Perché... Ehm... Le persone che ci sono state mi hanno parlato veramente benissimo. Ehm... Poi invece... Più verso il centro. Ehm... San Gimignano in Toscana. Siena e... Perugia anche. Mi piacerebbe visitare. So che ce ne sono tantissime altre. Ehm... Però... Ehm... Queste sono quelle di cui ho sentito parlare di più. Ehm... Poi... Altra domanda. Ci fai sentire la tua voce naturale. Ci fai sentire la tua voce naturale. Ok. Preparatevi perché adesso ci sarà uno stacco. Non spaventatevi. Allora, mi allontano dal microfono un attimo. Questa è la mia voce naturale. Questa è la mia voce naturale. Ok. Ora torno al whispering. Ok. Poi... Il genere cinematografico non televisivo che segui con più interesse e perché ti piace. Allora... Io sono un amante dei film. Ehm... In generale se un film è bello e ben fatto. Non importa di che genere sia. Se devo scegliere un genere... Non riesco a sceglierne uno. Ehm... Allora mi piacciono molto i film drammatici. Perché... Ehm... Mi coinvolgono molto. Ehm... Soprattutto quelli... Girati in un modo che sembra proprio reale. Ehm... Non so come spiegarmi. Poi i thriller psicologici mi piacciono molto. Ehm... I film biografici. Ehm... Anche i film romantici. Perché sono... Ehm... Ho questo debole che... E' il fatto di essere molto romantica. Ah... E anche i documentari. Li adoro. Ehm... Ne guardo uno praticamente alla settimana. Ehm... E quindi sì. Questi generi qua. Ehm... Poi... Anche... Anche qui potrei parlare ore di film. E... E... Generi che... Mi piacciono. Però... Poi diventerebbe troppo lungo. Ok. Altra domanda. Io sono curiosa di sapere che ASMR artisti segui. Tra l'altro io dico ASMR in inglese perché... Quando lo dico in italiano mi... Mi sembra... Mi stona. Ehm... Quindi... Perdonatemi se lo dico in inglese. Allora... Allora... Ehm... Io... Come forse avevo già detto... Nel primo video sono molto selettiva per quanto riguarda... L'ASMR. Ehm... Lo seguo praticamente... Non... Non dall'inizio. Non da quando è nato. Ma... Almeno da otto anni circa. Ehm... Diciamo che... Per seguire un canale... Deve piacermi intanto la persona. E... Il suo modo di fare. Il suo modo di porsi. Ehm... E infatti sono rimasta a seguire praticamente gli stessi canali da anni. E... E non lo so. Cioè... Si crea questa sorta di... Legame... Tra me e... L'ASMR. Anche se... L'ASMR. Non lo sa. Però... Si... Ehm... Sono appunto abbastanza selettiva. Mi sono segnata dei nomi che seguo perché... Ripeto... Non... Non mi viene tutto in mente subito. Allora... Canale... Proprio del cuore. E' Gentle Whispering ASMR che seguo da quando è nata. Cioè... Da quando è nata il suo canale. Non da quando è nata lei ovviamente. E... Non lo so. Lei è proprio... Credo... Nata per fare questo tipo di... Lavoro. Ha un... Un... Non so che di materno. Di... Di confortante che... Fa stare proprio bene. Poi... Whispers Red ASMR è un'altra che seguo da tantissimo. E anche lei ha... Questa dolcezza... Questa... Quest'istinto materno quasi. Ephemeral Rift è un genio secondo me. Ha dei contenuti molto originali. E... 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 Poi la sua voce è così... Ehm... Così morbida. Così... Coinvolgente. Massage ASMR. E' stato il primo che mi ha fatto scoprire l'ASMR con i video di Dr Dimitri. E... E... Se non lo conoscete... Andatevelo a vedere perché... Secondo me è bravissimo. Ha un sacco di talento. Poi parla in modo lento. E... Con calma. E... Secondo me è una cosa... Molto molto importante. Per rilassarsi. Poi... Canali più recenti che seguo sono... Southern ASMR Sounds che... E... E... Una signora del sud... Degli Stati Uniti. E... Adoro il suo accento. E poi non ne ho... Non ne ho trovati tanti altri che fanno l'accento... Southern. Ting Ting ASMR che è cresciuta tantissimo in poco tempo. E... Adoro il suo accento. Mi piace tantissimo. Fred's Voice ASMR. Ehm... Mi piace tanto la sua voce. Ovviamente. E... E... Poi... Alcuni più recenti che ho scoperto sono... Ocean's ASMR. Blue Whisper e Silver Hair. Che... Hanno tanto talento secondo me. Per quanto riguarda quelli italiani... Ehm... Io... Avendo seguito ASMR da... Da così tanti anni mi sono... Sempre solo concentrata su canali inglesi o americani. Ehm... Ehm... Però appunto essendo abituata all'ASMR in lingua inglese... Ehm... Mi è un po' difficile... Ehm... Passare a... All'italiano. Canali che ho scoperto... Italiani. Ehm... Da quando ho aperto il mio canale e che seguo... Attualmente sono... Crescent Moon ASMR e... Cucci Cucci ASMR. Poi... Ehm... Soffri il solletico? Quali sono le sensazioni tattili che associ di più all'ASMR? Ehm... Allora sì, soffro il solletico. Molto. Ehm... Le sensazioni tattili che associ all'ASMR... Ehm... Non so bene cosa... Cosa intenda la persona che ha fatto la domanda. Ehm... Forse... Una carezza... O... Dei grattini... O... Anche un abbraccio a volte. Ehm... Dipende un po' dal tipo di video che sto guardando. Ehm... Spero di aver risposto alla domanda. Mi ha un po' confusa. Però sì. Allora... Domanda difficile e anche un po' personale. Credi in Dio? Preghi. Allora... Ehm... Non sono una persona religiosa. Però... Sono spirituale. Perché... Ehm... Non penso che... Bisogna essere religiosi... Per essere spirituali. O per essere... Per riuscire a superare il proprio ego. Il proprio io. E sentirsi in comunione con l'universo. Io penso che siamo tutti... Una parte dell'universo che si esprime... Attraverso noi. Attraverso gli animali. Le piante. Tutto quello che compone... Il nostro mondo. Ehm... Penso che siamo tutti interconnessi. Tutti. Con tutto quanto. Con tutto quello che ci circonda. Con l'universo. Ehm... C'è un filosofo... Ehm... Che si chiama Alan Watts. Che... Sego da quando sono... Ehm... Da quando ero ragazzina. L'ho scoperto. E purtroppo è morto. Ehm... E... Mi sono segnata una sua frase che mi piace molto. Che dice... Tu sei una funzione dell'intero universo. Così come un'onda è una funzione dell'intero oceano. E questo racchiude un po' il mio pensiero. Ehm... Diciamo che seguo anche molto la filosofia buddista per quanto riguarda la spiritualità. Ehm... Magari se a qualcuno interessa faccio poi in futuro un video dedicato a... A questo tema. Ehm... Ehm... Però comunque... Ehm... Penso che... Ehm... Ehm... Appunto non... Per carità io... Rispetto assolutamente... Tutti... Ehm... Tutte le religioni. Ehm... Ehm... Non ho... Non ho niente... In contrario. Semplicemente... Non penso che serva essere religiosi... Per essere spirituali. Ehm... Ehm... Sentirsi... Ehm... Cioè avere... La fede e tutto quanto. Pregare. Però alla fine... Ognuno sente quello che sente dentro di sé. Ehm... Bisogna rispettarsi a vicenda ovviamente. Ehm... Sempre se... Ehm... L'altro non sta recando... Ehm... Finché ognuno... Pratica la propria religione o il proprio pensiero... In modo pacifico... Bisogna rispettarsi. Ehm... Però comunque... In questi anni mi sono avvicinata molto alla filosofia buddista. Ehm... Mi ha aiutata anche a superare certe cose. Ehm... 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 Siamo sempre più... Convinta che... Siamo tutti, 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 tutti connessi. E... Ragchiudiamo dentro di noi una parte dell'universo. Ehm... Mi ricordo anche da piccola... la mia mamma mi ha spesso raccontato che quando avevo 5-6 anni le avevo espresso un concetto che alla fine è quello che penso tuttora, ovvero le ho detto che Dio, perché al tempo non ragionavo ancora come ragiona adesso ovviamente, cioè per me c'era Dio, che Dio era, non era una figura intera, ma era, come si può dire, spezzettato, era tante piccole parti e queste piccole parti eravamo noi, noi umani, tutte le forme di vita che compongono il pianeta e nulla, quindi questo è un po' il mio pensiero, detto in modo semplice. Poi, altra domanda, volevo chiederti della musica, nel senso che musica ascolti o gruppi preferiti del momento, ultimo concerto. Allora, il mio ultimo concerto è stato a gennaio di quest'anno, a inizio gennaio, ed era il concerto di Mezzosangue, che è un rapper italiano e sono andata con mio fratello perché è lui che mi ha aperto al mondo del rap, io prima non lo ascoltavo, però grazie a lui ho scoperto che ci sono davvero tanti artisti, ovviamente meno conosciuti di quelli che ci sono in classifica, però ci sono tanti artisti rap italiani che hanno dei testi assurdi, che esprimono veramente dei concetti importanti e profondi. E quindi sì, mi sembra che l'ultimo concerto fosse quello, perché ero stata anche a un concerto jazz, ma credo fosse lo scorso dicembre. Poi non lo so, la mia memoria a volte mi frega, ma penso sia stato quello. Ah sì, e musica che ascolto? Allora, sono cresciuta in una casa, cioè in una famiglia dove mio papà metteva sempre ogni giorno musica dallo stereo e lui mi ha trasmesso questa passione per la musica e per tanti generi diversi di musica. E quindi sono cresciuta ascoltando dei classici rock tipo Led Zeppelin, The Doors, The Who, Genesis, Credence Clearwater Revival, Emerson, Lake and Palmer, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Nirvana, Bob Dylan, tanti canteautori, tantissimi, e James Taylor. Potrei andare avanti, ma questi sono quelli che mi vengono subito e questi gruppi sono rimasti, cioè magari non li ascolto ogni giorno, però ce li ho nella mia musica sul telefono e devono esserci. Poi, cosa ascolto in questo momento? In realtà mi sono insegnata qualcosa perché ne ascolto tanti. Allora ho scoperto di recente, cioè ho riscoperto in realtà un plus che mi piace tantissimo, che è quello che fa, che faceva Stevie Ray Vaughan dei Double Trouble, è pazzesco, veramente un talento geniale. Poi ascolto ultimamente i Red Hot Chili Peppers, e J. Cole, Hip Hop anni 90, Notorious, Nas, Tupac, cos'altro? Poi gli Arctic Monkeys, i loro primi album, Sto riascoltando. Rap italiano, forse un po' meno ultimamente, perché sto ascoltando più quello americano, però come artisti rap italiani preferiti abbiamo, a volte parlo al plurale, Claver Gold, Muruputu, adoro Muruputu, Mezzosangue, poi diciamo i classici Chaos One, poi poi poi, ce ne sono tantissimi, Nois Narcos, Colle del Fomento, Sangue Misto, Stocke e Matt Putty, Dave Matthews Band, i Radiohead anche, Joyner Lucas, Eminem, vabbè, Robert Glasper, ho scoperto di recente, e direi più o meno che ho raggruppato, più o meno, poi ce ne sono tantissimi, veramente tanti, però, quelli che mi vengono in mente, che mi sono segnata, sono questi. Ovviamente, come avete sentito, sono tanti generi diversi, e poi anche, mi piace molto, Ben Howard, Damien Rice, come musica folk, jazz e blues, non so perché me lo sono dimenticata, ne sto ascoltando tantissimo, ho scoperto, purtroppo, di recente, un artista giapponese, Ryu Fukui, e mamma mia che talento, veramente un grande, grande, grande artista, e poi come jazz, blues, ascolto molto Muddy Waters, BB King, Bill Withers, Chet Baker, cos'altro mi sono scritta, John Coltrane, Ray Charles, e ho scoperto un altro artista di recente, che è molto bravo, che si chiama Don Byron, e comunque dipende un po' dal mio mood, quindi quello che ascolto varia, in base a quello che sto provando in quel momento, è lungo, sì, direi che ho fatto un breve riassunto, breve più o meno. Poi le altre domande, quali sono i tuoi film preferiti? Allora, anche qui potrei parlare per tanto, tanto tempo, e mi sono dovuta segnare qualche titolo, perché ne ho talmente tanti, cioè, allora ne ho visti talmente tanti, e ho talmente tanti preferiti che non mi sarebbero venuti in mente sul momento. Allora, intanto, tutti i film cult classici li ho visti, e chiaramente quelli che mi sono rimasti, ma credo a chiunque li abbia visto, li abbia visti, sono Fight Club, The Big Lebowski, Pulp Fiction, The Blues Brothers, e come, diciamo, film classici, vecchi, o musical, io adoro, adoro, Ho dovuto tradurre i titoli, cercarli su Google, perché li conosco solo in inglese, Via col vento, West Side Story, Singing in the Rain, Incontriamoci a St. Louis, Judy Garland, io l'adoro, Vacanze Romane, American Graffiti, An American, Un Americano a Parigi, Animal House, e The Wizard of Oz, Tutti i film incredibili che riguardo tuttora. Poi altri più recenti, moderni, che mi sono rimasti sono Into the Wild, che è preso dal libro, ma è un film che mi ha, devo dire, cambiata molto, l'ho visto quando ero in prima superiore, e l'avrò riguardato almeno 8, 9 volte, 10, ho fatto anche la tesi, la tesina di maturità su quello. Poi, Boyhood, mi è piaciuto tantissimo, ho girato benissimo, American Psycho, American Beauty, No Country for Old Men, che è tradotto Non è un paese per vecchi, Requiem for a Dream, Lost in Translation, Before Sunset, che è uno dei film romantici migliori secondo me, Birdman e Whiplash. Poi, ripeto, ce ne sono ancora tanti tanti altri che adoro, ma ho dovuto fare una sintesi, perché sennò parlo per troppo tempo. Poi, altra domanda, fumi. Allora, non fumo sigarette e, vabbè, per chi ha visto un po' i miei video vecchi, fumi, fumavo le joints, ma al momento non fumo niente, sto facendo un periodo di pausa, purificazione e nulla. Poi, altra domanda, non è proprio una domanda, ma è una domanda. Sarebbe mega interessante se ai piacere ci raccontassi dei tuoi anni all'estero. Non è un'esperienza comune girare il mondo da ragazzini sia nei lati positivi che in quelli negativi che purtroppo immagino ci siano? Allora, questa è una bella domanda. Allora, sì, io sono cresciuta all'estero, tra Asia, Australia, Centro America. Allora, i lati positivi, iniziamo da quelli positivi, sono che sicuramente il fatto di aver vissuto in diverse culture mi ha permesso di avere una mentalità aperta che ho tuttora e sono molto molto grata di questo, perché avere una mentalità aperta, senza pregiudizi, verso ciò che è diverso, credo sia molto 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 importante. Poi, il fatto di aver visto dei posti incredibili, tipo il Liars Rock in Australia, nel deserto, oppure la barriera corallina, oppure la foresta pluviale a Panama, in Costa Rica. In Asia non mi ricordo troppo perché ero molto piccola, comunque tutti questi paesaggi così spettacolari ti rimangono e mi considero molto molto fortunata. Poi, altro lato positivo, le lingue. Ho imparato prima l'inglese, poi l'italiano e poi lo spagnolo. E, ovviamente, è molto molto utile, sotto vari punti di vista, sapere più lingue. E poi anche il fatto di avere una mente che ragiona, nel mio caso sia in inglese sia in italiano, perché lo spagnolo, non penso in spagnolo, però penso in italiano e in inglese. Forse, forse, mi aiuta, cioè mi aiuta a, come posso dire, cioè sempre ad avere una mentalità più aperta. E, magari lavoro anche di più il cervello, non lo so. Comunque, sì, questi direi sono i lati positivi più evidenti. I lati negativi sono che non ho mai potuto mettere le radici da nessuna parte e da piccoli è difficile, comunque. Ci trasferivamo in un posto e facevo amicizie, poi però dopo uno o due anni dovevo dire addio. E, comunque, ho sofferto tanto per questo. E, comunque, durante l'infanzia e adolescenza, penso sia importante stabilire dei rapporti. Dei rapporti e, trasferendomi così spesso, non ho potuto continuarli. Anche se, comunque, con alcune persone mi tengo in contatto ancora, a distanza. Sto pensando ad altri lati negativi. In realtà non me ne vengono in mente, credo che questo sia quello più evidente. Un altro lato positivo è il fatto di aver dovuto imparare ad adattarmi a situazioni diverse. E questo, credo, mi aiuterà anche, poi, nella vita, nel mondo del lavoro, eccetera. Sto pensando ad altri lati negativi. Un altro lato negativo è forse il fatto che dopo un po', che ti trasferisci così spesso, ti senti un po' un pesce fuori d'acqua. Tipo, quando siamo rientrati in Italia, è stato molto, molto difficile, come dire, abituarmi a questo tipo di ambiente. Probabilmente, probabilmente, molto meno internazionale degli altri paesi in cui ho vissuto. E, sì, mi sono sentita abbastanza nemarginata per diversi anni. Poi, ovviamente, è passato, però non è stato facile. E, nulla, spero di aver risposto. Poi, ancora qualche domanda. Altezza. Io sono alta 1,77. Non pratico uno specifico sport, ne ho fatti diversi. Quando ero ragazzina, adolescente, ho fatto tennis, ballavolo. Ma non ho mai continuato. Al momento faccio pilates, esercizi di corpo libero, pesi, vado a camminare. Mi piace molto fare trekking. Ogni tanto corro. E, sì, diciamo che faccio un po' quello che si deve fare per tenersi in forma, in salute. E poi, fare sport, comunque, fare attività fisica mi fa stare molto bene. Quando è il tuo compleanno? Cosa ti è arrivato di bello per Natale? Allora, il mio compleanno è il 26 dicembre. E, per Natale, il regalo più bello è stato... Ve lo faccio vedere. Questo, in inglese, si chiama onesie, ovvero questo pezzo unico di stitch. Non sono mai stata così contenta per un regalo. E' troppo carino, cioè, dai. Sono un po' una bambina dentro. Però è super morbido, mi tiene stracaldo, quindi è molto funzionale. E poi mi sento stracarina. E nulla. Magari poi lo indosserò per un video. Chissà. E un altro bellissimo regalo è stato un set di pennelli e... come si chiamano in italiano? Vabbè, non mi viene. Comunque è un set di cose per dipingere e anche dei colori a olio che non vedo l'ora di usare. E poi... Oddio, credo di aver finito. Vediamo un po'... Sì, ho finito. Spero di non aver dimenticato nulla. Tanto nel caso... Il prossimo traguardo di iscritti, magari faccio un altro Q&A. E... nulla. Spero che il video sia stato rilassante. E... So che non è totalmente dedicato al rilassamento, però... Magari sentendomi parlare così a bassa voce, in whispering... Mi è venuto un po' sonno. Spero. E... Grazie di cuore per tutto, 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 tutto. Mi... Mi scalda veramente il cuore leggere alcuni commenti e... Perché vedo che li scrivete col cuore anche voi. E... Vorrei abbracciarvi, se potessimo. E... E nulla. Il prossimo video uscirà domenica. E... E... Nulla, non voglio preannunciare niente. Stavolta, così siete sorpresi. E... Ci vediamo presto e vi auguro una buona serata e una bellissima settimana. Ciao, 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 ciao. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.